quello che è successo è una cosa irreparabile in una notte è bruciato tutto i sogni nostri quelli della famiglia per inotto di 40 anni di attività pianale e tutto tanti amici italiani dobbiamo ringraziare che ci hanno offerto materiale però noi vogliamo ripartire da zero perché abbiamo delle forme e abbiamo trovato un pianale di recupero e poi il carro è già fatto come è già fatto? ma come no? poi lì c'è l'elvis preso lì è già fatto perché sarei ora è un movimento, ora è un movimento lì, ma chiaro è già fatto, è già fatto, basta non mi mettere il nome davanti e basta, vale, è già fatto non mi mettere il nome davanti, non mi mettere il nome davanti, non mi mettere il nome davanti grazie a tutti